allora il 40 per cento dei comuni italiani non ha più uno sportello bancario sul suo territorio sono i dati che emergono dall'ultimo aggiornamento dell'osservatorio sulla desertificazione bancaria istituito dalla fondazione fibra nel quale sono elaborati i dati resi disponibili a tre puntori sul 2022 da banca italia istat questo è un risultato nel processo di concentrazione innescato dalle fusioni negli ultimi anni che ha portato le prime cinque banche italiane a controllare oltre il 50 per cento del mercato domestico collegato all'ossessione di questi cinque gruppi bancari per il taglio dei costi operativi i danni sono evidenti sia sotto il profilo sociale che economico infatti in un paese in cui l'utilizzo dell'internet banking è abbastanza modesto e soprattutto le competenze digitali specie nella fascia più anziana della popolazione restano insufficienti a pagare il prezzo più alto di questo tra virgolette di servizio sono le persone più fragili ma non è solo l'utenza finale il soggetto colpito da questo da questo taglio da questa desertificazione degli sportelli bancari anche il sistema produttivo delle piccole piccolissime micro imprese risente fortemente dei rischi connessi a questa desertificazione degli sportelli bancari sul territorio infatti negli ultimi dieci anni la quota di credito destinata alle imprese nel complesso è diminuita ma il calo nei confronti delle piccole imprese è stato più che proporzionale la situazione sarebbe ancora più grave nei confronti delle micro imprese se non fossero venute in soccorso di queste le banche di dimensioni minori che non hanno comunque smantellato le loro reti sul territorio di fatto sono state proprio le piccole banche a cominciare da quelle di credito cooperativo a sostenere in questi anni il credito delle imprese minori adesso vediamo in abruzzo che cosa è accaduto che qual è la situazione degli sportelli bancari al 2012 2022 e lo facciamo analizzando proprio i dati raccolti dalla fondazione fibba e che ha reso disponibili il proprio sito in questi giorni vediamo che i comuni appozzesi privi di sportelli bancari sono più del 50 per cento sono addirittura il 58,7 per cento e lo possiamo vedere nel diagramma a torta con riferimento ai comuni senza sportelli già al 2015 che erano pari al 44,92 per cento ai quali si sono aggiunti gli abbandoni di sportelli dal 2015 pari al 13 e 77 per cento in più vi è la situazione di rischio data dal 19,67 per cento dei comuni dei municipi che ha soltanto uno sportello quindi sono a forte rischio anche di ulteriore taglio perché basta dischiuda l'unico sportello presente nel 19,67 per cento dei comuni che vi potrebbero essere a prete ulteriori comuni senza neanche la presenza di uno sportello bancario poi abbiamo questo secondo cartello dal quale vediamo tra i comuni appozzesi abbandonati alle banche quasi il 70 per cento si trova in zone montane quindi il 68,7 per cento si trova in zone montane e addirittura con riferimento alle zone rurali sono il 98,3 per cento i comuni in zona rurale che non hanno sportelli bancari questi sono le due tabelle che ci rappresentano la popolazione dei comuni appozzesi con un solo sportello bancario e la popolazione con un appozzesi privi di sportelli bancari vedete che abbiamo comuni tipo torre vecchia teatina che con 4.206 abitanti comunque non non ha neanche uno sportello bancario e infine abbiamo ultima tabella che ci indica le banche nei comuni appozzesi che hanno un solo sportenne le banche nei comuni appozzesi che hanno cessato l'ultimo sportello di quel comune tra il 2015 e il 2022 quindi vediamo che le banche che hanno chiuso più sportenni sono la banca popolare in pari con 12 con 12 sportelli e 12 comuni l'AP per banca con ulteriori 12 sportelli e 12 comuni e a seguito unicredit tesla san paolo di banca banca caripe questi dati sono allarmanti ci indicano una prospettiva che può essere fermata frenata indertita ma la tendenza è che probabilmente per i prossimi mesi non potrà che essere confermata cioè andremo incontro ad ulteriori riusure di sportelli bancari questo perché stando agli ultimi dati resi disponibili dall'osservatorio fintech in issue tech della school of management del Politecnico di Milano si vede affermare sempre più un modello di business as a service che porterà un ulteriore numero delle filiali bancarie sul territorio che cosa è il modello business as a service si tratta di un modello di business diversa fa nelle società digitani che non hanno una licenza bancaria possono offrire ai clienti servizi come conti correnti online di pagamento carte di credito prestiti assicurazioni investimenti già oggi sta crescendo la percentuale di coloro che fanno ricorso a canali citati quindi questo modello di business chiaramente a patte i costi operativi e mette in concorrenza le banche vere e proprie in possesso una licenza bancaria con soggetti che non necessitano di questo tipo di licenza per offrire più o meno gli stessi servizi e quindi probabilmente nel prezzo periodo e forse anche nel medio assisteremo un'ulteriore contrazione degli sportelli bancari in abruzzo come nel resto del territorio italiano ci vediamo alla prossima ciao